Attenzione ragazzi, ci sono cinque testimoni come questo, più l'ultimo che invece è nascosto. La squadra che lo trova ha vinto! Preparatevi tutti ai vostri posti, andiamo! Preparatevi! Buona gara a tutti ragazzi! Ai vostri posti, pronti, via! Stai bene? Ora che mi hai salvato sì, sto bene. Ehi, 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 ehi! Forza, sbrigati! Ehi, forza! Preparatevi, vai! Sbrigati, faccio! Preparatevi! 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 So ker furtatevi... ù la salì di tada e qui ne ha più un giorno vai Gieto 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 e qui non vuole Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti